Grazie al gruppo Focchi, alla famiglia, a Maurizio e a Paolo per quello che hanno dato e voluto dare al territorio e hanno saputo dare al territorio. E dare al territorio è qualcosa che credo riempie anche di senso il fare impresa, perché dare al territorio vuol dire dare lavoro, dare economia, dare relazioni sociali. Io credo che forse davvero è arrivato anche il tempo in questo momento storico che non è di crisi ma di cambio d'epoca, dove non è che manca solo il lavoro o chiudono le aziende, spariscono settori industriali, settori produttivi, non ci sono più intere filiere che producono qualcosa. Penso che in questo tempo in cui bisogna tentare di fare i conti non con la resistenza al cambiamento, ma con probabilmente come fa un gruppo come Focchi, sia il tempo di interpretare il cambiamento, non di resistervi. E quindi anche il tempo che gli anniversari delle aziende forse debbono essere celebrati come se si festeggiasse un evento civile di particolare importanza. Un centenario di un'azienda così solida, di un gruppo così solido, davvero ci consente oggi di guardare anche a questi momenti che sono di festa, di riunione, come qualcosa di straordinariamente importante per il tessuto civile e civico di una comunità e di una città. Quindi non è solo un momento di festa, io penso che questi debbano diventare veri e propri momenti intorno ai quali una comunità si stringe e li celebra come può festeggiare una giornata nazionale di festa. Quindi un grande grazie nei confronti di chi ha creato lavoro, di chi produce ricchezza. Io non voglio aprire il cascedo delle doglianze, la dico in italiano, ma nel mio passaggio protempore in questo ruolo amministrativo, in questa straordinaria e difficile città, mi limito a dire che molti dei singoli problemi che impediscono al nostro paese di impostare una moderna politica industriale, forse sono dovuti, se guardiamo fino in fondo, in profondità le cose, sono dovuti al fatto che siamo abituati in questo paese, forse anche in questa città, spesso a evocare i cambiamenti e poi ci aspettiamo che sia il vicino di casa o il vicino di impresa ad attuare il primo passo verso il cambiamento, il primo passo verso, come dire, al mettersi in gioco. E questo produce fondamentalmente una diffidenza di fondo in una comunità, in un paese, perché quando si dice che bisogna cambiare poi deve essere sempre qualcun altro a farlo, questo crea una diffidenza di fondo nelle relazioni tra impresa e istituzioni, tra lavoratori e imprenditori, una sorta, come dire, di separazione delle parti, di cui oggi in questo mondo che cambia non solo non abbiamo assolutamente bisogno, ma noi abbiamo bisogno di una ritrovata relazione tra le parti. Questa diffidenza di fondo per cui devi cambiare tu, tutti dicono dobbiamo cambiare, ma alla fine deve cambiare qualcun altro, porta ad una costruzione di relazioni tra le persone per le quali a volte, appunto, l'imprenditore visto come il padrone, il lavoratore come scansa fatiche, le istituzioni come sorde e non attenta ai bisogni di un'impresa. Ecco, se tutti noi provassimo a metterci in discussione come un'impresa come questa sta facendo tutti i giorni, lavorando sulle proprie radici profonde nella propria terra, Rimini e poi Poggio Toriana, Poggio Toriana già il nome è un cambiamento, il mondo cambia, qui c'è il sindaco, hanno avuto il coraggio di unirsi per mettere insieme i servizi e nell'unione delle relazioni tra lavoratori, territorio, impresa e anche tra comuni che noi riusciamo a rispondere ai bisogni che crescono, a pulire le strade, penso appunto all'unione dei comuni, a dare dei servizi. Ecco, siamo in una struttura straordinaria, la nostra è una città complessa, fatta di tante epoche, la città romana, rinascimentale, la città moderna. Stiamo celebrando i 70 anni della liberazione di Rimini in questi giorni, 396 bombardamenti. Io ho in tasca in questi giorni i bollettini dei commissari prefettisti di allora, quando a Roma mandavano i bollettini dicendo qui non si può ripartire perché non si sa da dove ripartire. L'82% degli edifici sono distrutti. Una delle terre più povere d'Europa, la desertificazione emblematica, raccontata anche da quelle foto, che ritraggono una città che aveva allora circa 70.000 abitanti, ne erano rimasti 2.800. Pensate alle fotografie che vediamo nel mondo dei racconti di guerra e cosa ha vissuto la nostra comunità. Allora tutto questo per dire cosa? Oltre al grazie, forse quello che diceva Paolo ci aiuta anche a trovare le coordinate di un futuro che può anche non solo essere oscuro e minaccioso ma diverso delle abitudini. Cioè le coordinate che ci fanno ritrovare nelle radici quell'orgoglio di una rinascita, di una ripartenza, come abbiamo saputo fare nel 46 in una città desertificata dalle bombe, attraverso appunto l'investimento di noi stessi nel cambiamento, nella sperimentazione come fa l'azienda di tecnologie nuove, di know-how che abbelliscono la capitale inglese, abbelliscono Londra, abbelliscono il mondo grazie alle tecnologie sulle quali l'azienda investe. E allora quella parola, io non avevo preparato, mi hanno messo qui due robe che non sto neanche leggendo perché non è assolutamente il caso, allora davvero quella frase di Paolo mi è rimasta impresso, in rotta verso il futuro, orgogliosi delle proprie radici, nelle radici come dire, la forza di trovare le coordinate anche del cambiamento che dobbiamo fare. Questa struttura, a proposito di questa città che abbiamo alle spalle di duemila anni, è una struttura quasi coeva dell'azienda Focchi. Il Grand Hotel è stato inaugurato nel 1908, ha saputo resistere anche al passaggio della guerra come ha fatto l'azienda. Essere, come dire, orgogliosi delle proprie radici fa stringere la propria comunità, ma se ci stringiamo dobbiamo anche stringersi in un patto tra lavoratori e imprese. Proviamo a cambiare questo paese, proviamo a cambiare questo paese anche nelle regole che non possono più permettere alle imprese di svilupparsi. Quindi Paolo, Maurizio, grazie perché una comunità, io la chiamo così, non solo un'impresa, una comunità come la vostra dà anche senso, come dire, a chi è lì di passaggio che tenta di districarsi tra le norme come un sindaco che non ha funzione, autonomia, però una storia come la vostra dà senso per provare a sperimentare il cambiamento che anche la città deve fare, che sta tentando di fare e che con la forza delle comunità che voi avete farà sempre con più energia. Quindi grazie al gruppo Focchi, grazie per quello che fate e grazie per la vostra responsabilità sociale di impresa che è un pezzo importante del valore economico che producete tutti i giorni. Grazie. Grazie. Grazie.